In occasione della Toscana delle Donne, una settimana di eventi organizzata dalla regione per celebrare le mille sfaccettature dell'universo femminile, al Centro Tecnico Federale di Coverciano il presidente Eugenio Gianni ha consegnato il Pegasolato a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima arbitro donna della Serie A maschile di calcio. Sì, ho voluto questo riconoscimento, il Pegasolato per lo sport a Maria Sole Caputi perché è una livornese, una toscana doc che riesce a scalare quello che è un mondo davvero delicato, difficile ad arbitrare una partita che è una partita di Serie A come in qualche modo primo cuneo in un mondo che deve aprirsi alle donne, il mondo dello sport. Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese, 32 anni, ha esordito come arbitro nel 2015 quando fischiò in Serie D nel match tra Levico e Atletico San Paolo. Lo scorso 2 ottobre ha diretto la sua prima partita nella Serie A, il match Sassuolo-Salernitana al Mapei Stadium a Reggio Emilia, un debutto importante arrivato dopo una lunga gavetta. È un grande onore ricevere questo premio in casa, sono stata fortunata perché la Toscana anche a livello arbitrale ha offerto personalità di spicco anche nel mondo femminile e oggi questo riconoscimento è sia per la mia associazione che per le donne toscane che mi hanno preceduto. Quali sono le doti che deve avere un bravo arbitro? Fermezza, tranquillità, serenità e istintività. Il 2 ottobre hai esordito in Serie A, quanti sacrifici per raggiungere questo traguardo? 16 anni di sacrifici, 16 anni di impegno costante, niente di diverso da quello che fanno i colleghi uomini perché anche per i colleghi uomini in Italia il percorso è molto lungo, ce l'ho messa tutta e sono felice che il sogno si sia realizzato. Adesso l'obiettivo è arrivare sempre più in alto, forse anche ai mondiali con gli occhi sempre fissi sul pallone. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile, solo alcune bravissime, grandissime sono attualmente al mondiale, parlo di donne, ci sono tre donne arbitro al mondiale e anche assistenti e quindi sì, l'obiettivo è un domani poter replicare questo, spero di lavorare tanto quanto hanno già fatto loro e di poter raccogliere i loro stessi risultati.